Siamo qui con alcuni redditori del terzo convegno sul ciberbullismo a San Donato di Piave e qui abbiamo appunto due redditori. Abbiamo Ioseto Foletto, ecco che ci darà la sua impressione. I ragazzi sono molto partecipi e hanno accolto con entusiasmo le tematiche che abbiamo presentato e il fatto di creare un incontro dinamico dove non vi siano solamente definizioni ma esperienze di vita realmente vissute gli aiuta a capire che il problema è reale, autentico e che possono gestirlo e prevenirlo in più modi che loro magari non conoscono. La cosa importante di questo convegno, il messaggio che vuole lanciare è che i ragazzi devono capire che si va tutti nella stessa direzione di fatti i relatori appartengono a campi professionali e a campi d'azione umani diversi per cui loro si rendono conto che il problema non è focalizzato sulla loro età e sulla scuola ma riguarda tutti noi. La dottoressa Casagrande è presente come relatrice come l'anno scorso e ci porta anche l'esperienza di tutti gli altri incontri nelle scuole che avete fatto. Sì, sono felice di aver partecipato a questo convegno e di aver collaborato con tutti i relatori che come me hanno portato la propria esperienza. Niente, durante questo convegno io ho pensato di sensibilizzare i ragazzi a quello che è il fenomeno del cyberbullismo riportando delle esperienze personali, le esperienze che noi come associazione Hermes e io come professionista vivo quotidianamente lavorando nelle scuole. Abbiamo qui l'organizzatore della cassa mutua della Banca del Veneziano che ci è sempre vicino su tutte le cose che organizziamo. Qual è la sua impressione? Direi ottima, sicuramente. Ho visto che è stata fatta una scelta di relatori che è quella giusta, nel senso che ci sono tutte le competenze e tutti i relatori anche abituati a parlare ai giovani perché questo è il messaggio principale. Devono essere recepite da ragazzi che sono dei protagonisti della mattinata. Quindi veramente complimenti a chi ha pensato a questa cosa, che l'ha ripetuta, l'ho partecipata anche l'anno scorso, in maniera così efficace, così seguita da ragazzi. Il presidente dei diabetici della regione Veneto, che anche lui c'è sempre vicino in tutti, ha sostenuto questo convegno. Veramente una bella cosa. Ho un'esperienza veramente da fare, da venire qui e capire il problema giovanile, cosa effettivamente succede nelle scuole. E anche ho visto la volontà dei ragazzi, la certezza di combattere questo bullismo che esiste. Quindi, mentre una volta era tutto silenzioso ai tempi nostri delle scuole, eccetera, oggi ho sentito tramite il comandante dei carabinieri, tramite l'avvocato, che c'è possibilità di chiudere questo buco nero che abbiamo e che si sta creando. Grazie. Grazie.